Devo dire la verità siamo molto contenti delle presenze, c'è stato tanta gente, tanto turismo, abbiamo dovuto adottare anche il senso unico proprio per la sicurezza delle persone. La settimana poi dal dopo Natale all'Epifania, quasi 15 giorni, sono stati ancora più affollati del periodo natalizio. Questo è un buon segno e stiamo lavorando per portare in porto progetti molto importanti, tra cui quello che già abbiamo ottenuto, abbiamo vincolato la San Gregorio Armeno alla Solarte Preserviale. A proposito di progetti futuri, San Gregorio Armeno non è solo dicembre, lavora tutto l'anno, avete fatto anche iniziative negli anni scorsi, mi viene in mente anche San Valentino a San Gregorio Armeno, ci può anticipare qualcosa? Sì, San Gregorio Armeno vuole essere un volano culturale, partendo proprio dalla tradizione settecentesca napoletana e stiamo organizzando tanti eventi culturali anche nelle festività. Penso per esempio a San Gaetano che è uno dei primi a interpretare il presepe napoletano, poi facciamo San Gennaro che è il nostro santo protettore, Poi c'è quest'anno un'iniziativa del primo anno proprio di San Gregorio che non abbiamo mai fatto, però la vorremmo fare proprio per la notorietà e nel mondo della nostra San Gregorio, un'iniziativa molto bella, quest'anno faremo la festa di San Gregorio. Quando si farà? Cade a febbraio, il giorno preciso adesso non lo ricordo perché stavo pensando ad altre cose, stiamo lavorando molto per far partire la scuola del presepe napoletano tra marzo e aprile. A proposito della scuola, noi di Teleisca abbiamo fatto anche un servizio in precedenza, avete il sostegno delle istituzioni, ma il sostegno è arrivato anche dagli italiani d'oltreoceano, negli Stati Uniti, a che punto stiamo? Siamo a buon punto, stiamo individuando la località per iniziare i corsi di formazione, abbiamo avuto un buon sostegno dagli italoamericani che stavano a Napoli per finanziare qualche progetto e poi alla fine facendo una passeggiata, ci abbiamo raccontato la nostra scuola, sono rimasti molto contenti e hanno portato avanti una raccolta a fondo proprio per quelli che già hanno raccolto, adesso con il comune ma anche la chiesa che ci sta dando una mano sia per i siti che anche come parte integrante del progetto. Stiamo valutando sia delle chiese che l'albergo dei poveri, qualche cosa addirittura la fondazione Banco di Napoli come appartamento ci vuole dare in dotazione.